Carabinieri, sorpresa a una pizzeria d'Augusta che effettuava il takeaway, sanzione e sospensione. Nell'ambito dei servizi anti-Covid-19, il Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, attraverso i reparti dipendenti, continua incessantemente nell'attività di controllo del territorio per verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento del coronavirus. Anche nella giornata di ieri in tutta la provincia ne sono registrati numerosi casi di persone sorprese a circolare senza valido motivo, alcune anche a bordo di autovetture e altre intente a dialogare tra di loro creando assembramenti. Sanzioni sono state elevate a Siracusa, Cassibile, Carlentini, Villasmundo, Lentini, Augusta, Noto, Palazzolo, Avola e Rosolini. Ad Augusta è stato sanzionato il titolare di una pizzeria del centro poiché, sorpreso nella vendita diretta agli avventori, il cosiddetto takeaway non ancora consentito dal vigente quadro normativo. I carabinieri hanno chiuso immediatamente l'attività e, oltre alle sanzioni elevate, hanno avanzato alla prefettura di Siracusa a proposta di sanzione accessori e di sospensione dell'attività commerciale che, se sarà erogata, decorrerà dalla fine del lockdown. A Cassibile sono stati controllati e sanzionati tre soggetti non residenti nella frazione, sorpresi a girovagare lungo le vie cittadine senza alcuna giustificata motivazione. A Davola è stato sanzionato un trentenne sorpreso a circolare a bordo della sua autovettura e che ha tentato di giustificarsi assenendo di essere uscito per portare del latte alla sorella. A Rosolini una donna è stata sanzionata perché, all'atto del controllo, ha riferito di essere uscita per accompagnare un parente presso uno studio legale. I carabinieri, quotidianamente impegnati nel garantire la corretta osservanza delle misure di contenimento, rammentano che è stato fatto di vieta a tutti di circolare, se non per comprovate esigenze lavorative, assoluta emergenza o motivi di salute, e che le nuove disposizioni di legge prevedono per i controventori sanzioni da 400 a 3.000 euro da aumentare fino a un terzo, se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, e da raddoppiare in caso di recidiva ed evidenziano che l'attività di monitoraggio su strada e tutela per la salute dei cittadini si farà sempre più incisiva.